ciao nel video di oggi per come avete già capito facciamo una video recensione per quanto riguarda i filati primaverili estivi che ho appena acquistato siccome tante volte mi viene chiesto da dove acquisto i miei filati adesso vi faccio vedere vi spiego un po che tipo di filati sono questi ovviamente io acquisto sempre dello stesso negozio ormai da circa due anni per cui mi trovo molto bene e ho preso questi filati anche in rocche perché ero veramente curiosa poi ne parleremo della tipologia di fibra perché questi sono solo filati in fibra naturale al 100 per cento prima di passare oltre ci tengo tanto a specificare il fatto che questo video non è in collaborazione con nessuno per cui la mia opinione non è influenzata dal fatto che qualcuno mi ha mandato i filati gratis io praticamente li ho acquistati tutti come faccio normalmente ma siccome sono dei filati veramente validi stupendi qualità prezzo eccezionale per cui ho pensato che è bene condividere questa cosa anche con voi utilizzando i filati polo nord ho realizzato questo cardigan che in fibra naturale al cento per cento se non ricordo male era un misto lana e cashmere poi ho fatto la maglia top down con ferie accorciati alla tedesca qui era un misto cotone cashmere poi non per ultimo fatto lo shawl che questo era in lana al cento per cento e in questi giorni però sto lavorando ad una maglia top down con manica martello e per questa maglia sto utilizzando un filato 50 per cento cashmere 50 per cento cotone sempre fibra naturale al cento per cento acquistati sempre nello stesso negozio ma di questo ne parleremo in un prossimo video tutorial per cui non vi do troppi dettagli adesso allora prima di passare alla presentazione dei filati voglio fare una piccola parentesi voi sapete già che non amo fare video di chiacchiere ma in questa occasione voglio rubarvi soltanto qualche secondo per ringraziarvi a tutti voi che vi siete iscritti al mio canale per me è stata una grandissima sorpresa quando ho visto il numero dei iscritti praticamente il canale ha superato ventimila iscritti e vi ringrazio tanto 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 il sostegno i tantissimi complimenti che voi mi fate mi mettono tante volte in imbarazzo vi dico sinceramente perché delle volte non so più come ringraziarvi per le bellissime parole che avete nei miei confronti e questa cosa ovviamente mi dà molta molta soddisfazione e so che almeno a qualcuno interessa quello che faccio ma adesso passiamo a quello che ci interessa di più la presentazione dei filati e iniziamo con le rocche che sono fibre diverse tra di loro per cui iniziamo con la prima rocca che è l'unica rocca che ha un misto cotone e seta le altre no ma adesso vi spiego cosa sono praticamente questa rocca 100 grammi e 220 metri ed è composta da 56 per cento cotone 44 per cento seta e si lavora con dei ferri da 3 a 3,5 mm è veramente un filato stupendo la seta dalla lucentezza però gli altri invece per come vi dicevo sono hanno un'altra composizione poi ho preso queste due rocche non sono di cotone ma è un misto lino e seta praticamente a una composizione dell 85 per cento di lino 15 per cento di seta una rocca sempre 100 grammi e 280 metri si lavora con dei farri da 3 a 3,5 mm e il filo è veramente stupendo per me è la prima volta che prendo il lino e mi dispiace di non averlo fatto prima ma la cosa che mi ha incuriosita di più sono state queste quattro rocche che sono al cento per cento di lino ovviamente li trovate in tantissimi altri colori ho preso soltanto questi e ancora li devo provare ma al tatto sono rimasta veramente sorpresa me lo immaginavo un filato veramente rigido e credo che si presta benissimo per qualsiasi lavorazione adesso farò una prova sia all'uncinetto che a maglia e vi farò sapere come si presenta questo filato al cento per cento di lino e anche queste rocche sono da 100 grammi hanno 240 metri e si lavora con dei farri da 3 a 3,5 mm e ovviamente non poteva mancare il solito gomitolo questo qui che ho in mano è un misto cotone e seta ed è stupendo è talmente morbido è un cotone jeans visto che ha quel quell'effetto quell'effetto jeans e vediamo più da vicino questo qua per come vi dicevo è un cotone al 90 per cento e 10 per cento seta praticamente si lavora con dei farri da 2,5 a 3 mm e ha un gomitolo a 140 metri ogni gomitolo voglio specificare a 50 grammi poi quando ho preso questo colore ho pensato che lo andrò ad abbinare ad un filato variegato e ho scelto questo sfumato millefiori visto che ci sono delle tonalità di blu ed è veramente bello non me lo aspettavo perché nella foto non si vedeva che era così bello se no avrei preso più gomitoli di questi però la prossima volta sicuramente ne prenderò di più per come vedete ci sono diversi colori intrecciati e anche un filato lucido e morbidissimo e un cento per cento di cotone e si lavora con dei farri da 2,5 a 3 mm ogni gomitolo a 50 grammi e 130 metri ed ecco come stanno bene insieme questi questi due però quando ho acquistato il filato sfumato millefiori ero indeciso un po e poi ho preso un altro filato variegato che è particolarissimo per il fatto che quelle strisce di blu che vedete è un filato lucido che viene praticamente attorcigliato su un filo di cotone normalissimo per come vedete questi tre gomitoli questi tre colori stanno benissimo insieme è praticamente un gomitolo a 50 grammi come composizione 81 per cento cotone 19 per cento viscosa si lavora con dei farri da 2,5 a 3 mm e un gomitolo a 160 metri ma adesso la categoria del cotone la mettiamo da parte e ci occupiamo degli altri due sacchetti che ho preso e di nuovo ritorniamo al lino perché quest'anno mi sono presa la la fissazione di provare lino per cui ho preso altri gomitoli in cui c'è composizione lino e seta è praticamente questi gomitoli sono da 50 grammi cada uno come composizione 67 per cento lino 33 per cento seta si lavora con dei farri da 3 a 3,5 mm e come metraggio un gomitolo a 130 metri per come vedete ho preso due colori la tonalità del verde con quella del giallo perché stanno bene insieme ma questi gomitoli possono essere anche combinati con i filati che avete visto sulle rocche e per come notate la lucentezza del filato viene data proprio dalla seta questo fa sì che il filato sia molto molto bello e particolare e con questo la mia video recensione per quanto riguarda i filati polo nord è terminata sono veramente soddisfatta dell'acquisto che ho fatto e non vedo l'ora di utilizzarli ma prima devo finire la maglia top down con manica martello che posso dire che sta andando abbastanza veloce perché sto già registrando man mano che sto andando avanti con la lavorazione spero tanto che avete trovato questo video interessante avete preso qualche spunto e nel caso in cui avete delle domande potete farli giù nella sezione commenti e io vi rispondo volentieri poi per quanto riguarda il nome del negozio ve lo lascio giù nella descrizione del video spero tanto che avete apprezzato questo questo video e io vi aspetto alla prossima ciao ciao